Paolo Del Debbio svela il lato oscuro della sua famiglia, tutti in lacrime in diretta tv. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Paolo Del Debbio ha scosso il pubblico di Domenica in con una storia toccante e dolorosa. Aprendo un capitolo oscuro della sua famiglia che ha lasciato il famoso conduttore e tutto il pubblico in lacrime. Nel corso della trasmissione, Del Debbio ha condiviso dettagli intimi sulla deportazione di suo padre, Velio, in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Paolo non si è solo limitato a raccontare l'orrore vissuto da suo padre, ma ha anche presentato il suo nuovo libro, Le Dieci cose che ho imparato dalla vita. Attraverso le lezioni apprese dalle dure esperienze familiari, Del Debbio ha cercato di trasmettere un messaggio universale di resilienza e apprezzamento per le piccole gioie della vita. La narrazione si è concentrata sul concetto di felicità con poco, prendendo spunto dalla modesta vita dei genitori di Del Debbio, che avevano vissuto la guerra e avevano imparato a valorizzare ogni cosa, anche il minimo possesso. La storia ha preso una svolta ancora più drammatica quando Del Debbio ha rivelato la sofferenza di suo padre durante la deportazione nel campo di concentramento di Luckenwalde nel 43. La storia ha preso una svolta ancora più drammatica quando Del Debbio ha rivelato la sofferenza di suo padre durante la deportazione nel campo di concentramento di Luckenwalde nel 43. Con una suspense avvincente, ha descritto gli anni di attesa e il miracoloso ritorno di Velio nel 45 dopo la liberazione da parte degli alleati. L'emozione ha raggiunto l'apice quando Del Debbio ha condiviso il dettaglio delle condizioni inumane in cui suo padre è stato rilasciato, pesava appena 40 kg e aveva affrontato una marcia a piedi di 400 km da Verona a Lucca. Un ritorno accolto dalla comunità con un misto di gioia e sorpresa, dopo due anni di assenza e di speranza perduta. La lezione più profonda tratta dalla storia di Velio è stata enfatizzata da Del Debbio, mai perdere la dignità. Nonostante le avversità estreme del campo di concentramento, suo padre e gli altri prigionieri hanno mantenuto la loro umanità e la loro dignità. Un insegnamento che Del Debbio ha sottolineato con l'esempio del padre che, nonostante le circostanze avverse, si prendeva cura di se stesso e manteneva la testa alta.